Bella a tutti ragazzi, sono Archigamer e oggi siamo qui su questo episodio di Pokémon versione nera Allora, l'altra volta ci eravamo fermati con Blizzard al 18, PDAV al 19 e Duvot al 19 E vabbè, Panziarra al 12 Ora, andiamo avanti Ah, uno strumento, comunque Ora andiamo avanti Che andiamo a battere la palestra E ragazzi, oggi faremo molte più cose Perché ho visto che gli episodi stanno durando un po' tanto Quindi ragazzi Zephiropoli Vabbè, già c'eravamo Allora, per prima cosa Andiamo qui Ecco, qui c'è N Che vuole lottare Ok Lui manda PDAV E noi abbiamo Blitzel per primo Quindi siamo in vantaggio Ragazzi, stop un attimo il video Scusate ragazzi, ma C'era Skype aperto che mi faceva laggare un po' Quindi, allora Utilizziamo Onda Shock Bene Distrutto Dai Timple Anche lui è tipo acqua, quindi Penso che lo riusciamo a battere Però ci dà pochissima esperienza Timbure Timbure Allora Adesso facciamo così Proviamo a Muri, pezzo di merda No, e che cazzo Spero che ci fa salire il livello 19 Non penso però Magari Ok Sali Porca troia Vabbè L'ho battuto Solo con Blitzel Zekrom Ok Possiamo entrare qui E battere la papapapalestra Oddio Per serio Sono Cirillo Il vice direttore Ok Sarebbe il marito Della prode Della prof Della Della capopalestra Halo Halo E Ok Quella è la pietra di Reshiram Mi sembra Ok Nei cestini Cosa c'è? Ovviamente è un cazzo Ecco In fondo al museo C'è la palestra Ok Acqua fresca Sì Ok Sì ho capito Mi ha detto I tipi efficaci Contro Del tipo normale Però che schifo La palestra Di tipo normale Gennaro Ah Germano Patrat Ok Onda shock Vediamo se lo mando a terra Muori 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 Non penso Che muori E che cazzo Turbosabbia È la mossa Che odio di più Benissimo Benissimo No Dai Che cazzo Dai Che cazzo Ok ragazzi Allora Voglio solo far salire un blizzard A livello 19 Non voglio Sì proteggiti Sì proteggiti Devi morire Vabbè blizzard Non lo userò qua No No è impossibile usare blizzard Cambiamo Ah giusto Ah giusto Qual è il pokemon Che avete incontrato Per primo In questa palestra Che cazzo Che cazzo No Che cazzo Che cazzo Potrebbe essere di qualcun altro Come Finalmente qualcuno che ci sfida Cazzo Erdier Che cazzo gli uso Airasui Dai No Dai no è impossibile Come faccio a battere questa palestra Mi serve per forza un tipo lotta Ma io non voglio prendere un tipo lotta Porca troia Per ammazzare questo Erdier Ci sto mettendo Gesù E muori E che cazzo Se mi muore pitavo mi ammazzo Che culo 594 Mo' devi andare a fare un culo Perché Acqua fresca Pigliati sta acqua fresca Non è più acqua fresca Bene Si Vediamo che sta scritto Ah ok Allora ho trovato anche quest'altro Il poffin Ecco e mo' si scende per la palestra E nessun altro mi ha lottato Oh Unico è questo Ah finalmente qualcuno che lotta Oddio Che cavolo Io uso Vediamo che gli si fanno Con sto morso Mi hai rotto tre quarti di Gesù Mori Lillipop Dammi l'esperienza Lillipop Fammi salire al venti Lillipop Grazie Lillipop Ok allora Ho sbagliato No però questa pure fa male Muori Lillipop Dai cadi Lillipop Muori Lillipop Grazie Lillipop Dammi l'esperienza Poca esperienza Gli ha la costi Lillipop però Madonna Mi ha distrutto la vita Pettin fuori Bene Petto in fuori Petto di palumba Ok Benedetta scolara E' morta Allora per prima cosa io Voglio Oh allora C'ho Quattro superpozioni Una la uso su Blizz E Pitavo per ora Sta messo bene Perciò non ce la uso Volevi nascondere la tua palestra Travero Volevi Volevi E dai muoviti Sti libri di merda Ops Ok Aloe Ora è forte Non perchè Non perchè hai tipi normali Ma perchè io non ho tipi In vantaggio Sta nera di merda Patrat Ah Sì Beh livello 18 Prepotente Sì diminuisci pure l'attacco Ma che fa E' più veloce E ti pare No riduttore Cazzo Come faccio a mandare giù questo Se uso superpozione Mi distrugge la vita Per forza Mi serve il livello 21 Che ha usato Nemesis Vabbè allora Senti ti uso un altro erasoio No Dai Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare E non muore Perchè bastardo No Devo batterlo per forza Con pituff No Out No Dai Che brutto bastardo Attacco rapido Non si fa un cazzo Ovviamente Contracolpo E se io uso Trespolo No Mi ha ucciso Porca troia Va bene Allora vado alle maniere forti Direttamente No Mi è stancato Mi è stancato Basta Dai Attacca prima tu Ah Ups Sono più veloce Ah morto Grazie al contracolpo Watchog Ora uso Pansiar Per dare la super pozione A Dubot Che ha 19 di vita Eh 19 di vita Che cazzo ho detto Puri Watchdog Oddio Allora un'ultima occasione Dubot prenditi sta super pozione Ok Nemesi Perlomeno non morire Perché questa palestra mi puzza Ti perdi Tuo'nonda No 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 Ok bene Bravo Usa'n tuo'nonda Devi paralizzarlo Se ha Bene Non usare cure di stato Che ti spezzo le gambe Onda shock Oddio Sono più veloce Oddio Se lo batto con blitzer Mi sparo Porca troia Sto avendo un culo pazzesco Attacco rapido Non voglio togliergli Bene Ha usato Nemesi Non morire E non morire Porca troia Allora Lui non può utilizzare Super pozione Perché ha la vita gialla Penso Poi se la usa Sono cazzi i suoi Muori Muori E Muore Oddio 928 di esperienza Pidavora Era evoluto Intranquil Taglio furia Da quanto impari Le mosse di tipo Coleottero No Blocca Non la voglio Che cazzo Sono senza parole Pure io Sinceramente Non so come cazzo Fai ad avere Quel pokemon Di merda Che ti ritrovi Si ragazzi Seconda medaglia Ottenuta Ormai Siamo agli sgoccioli Nemesi Che mossa di merda Ok Mami Che cosa Perché ti chiama Mami Wow Come Che cazzo Hai messo Il nos Che cosa È questa cosa Nulla Ho paura Di uscire fuori Io ho i pokemon Morti Come esco Qua Vabbè Ho solo Duvot Che è quasi A livello 21 Ragazzi Allenerò un po' I pokemon Fuori video Perché Ce li ho un pochino A livello Basso Devo dire La verità Li aumenterò Massimo Al 25 26 Lo so ragazzi È troppo Tutti quanti Al 26 È troppo Quindi ci sarà Qualcuno Al 25 Qualcuno Al 24 Che fine Ha fatto La testa Di Dragonite Che cosa Dobbiamo Inseguirle Ah Dobbiamo E ci vado Solo io Bene Sì Anche io Ti voglio bene Maestro Artemisio Artemisio Che cazzo Ah Non mi ricordavo Questo particolare Perché ti manca L'ispirazione Contro i tipi Coleottero Posso usare PDAV Dopo Alla terza Medaglia Sì Potrei fare Evolvere Panziar Ma a me Non mi interessa Più di tanto Ok Qua adesso Stanno sempre Sti due Coglioni Che Eeeh Ricerca Strumenti Non me ne ho accorto Che facevo Segnare Gli strumenti Nascosti Anch'io Bene Curiamoci Un pochino La squadra Che sta A potane Ora Volvo PDAV Non mi interessa In questa parte Devo evolvere PDAV Non me ne fotte Proprio Devo evolvere PDAV Perché Si deve Evolvere Porca troia Voglio un Tranquil Di merda Vorrei Evolvere Anche Blizzle Però si evolve A 27 No ragazzi Ho capito Alleno i pokemon Al 26 25 Non mi interessa No Li alleno Allora Ragazzi Per la prossima Parte Vedrete PDAV Al 25 DUBOT Al 24 25 Forse Blizzle 26 Blizzle Al 27 Si evolve Si evolve Al 27 Io voglio un Zebstrike Ora Quindi ora Mi sto appassionando Troppo Evolviamo PDAV Non Evolviamo PDAV No a questo punto Vado avanti Lo Evolvo qua Allora Allora Ste due Hanno Tipo Erba Ah no Blizzle C'ha Nitrocarica Si Quindi Vai Volta In doppio Si Waddle Si Waddle Se Ora PDAV Non si Volve Gli Sparo In Faccia Ok Utilizziamo Aerasoio Su tutti e due Se non Muoiono Nitrocarica Su uno Di loro Bene Allora Attaccato Prima Blizz Uno è Morto Di sicuro Allora Bene Fammi Salire Porca Troia No Provella Tipo Vaffanculo Muori Ok Distruggiamo Questo Plasma Ok Sandile Oh mio dio Questo lo amo Si evolve In un crocodile E' potentissimo Certo Diminuisci Mi L'attacco Garanzia Muori Muori Cazzo Eeeh E fammi salire Di lì Porca Troia Un pokemon Solo C'hai Bastardo Di merda No Un pokemon Chi c'è qui Veniped Mi sembra Scoliped E' un tipo Veleno Vabbè Non mi interessa Più di tanto Però penso Che battendo Questo Mi fa salire Di livello E a sua volta Mi fa evolvere In tranquil Questo pidave Eeeh Vai così Evolviti Evolviti Si Abbiamo un tranquil Ragazzi Maddo che emozione La nostra seconda evoluzione Oh mio dio Abbiamo un tranquil Sii Non vedo l'ora Di avere una Fesante Allora Vediamo le statistiche Statistiche Eh però sei morto Cazzo Ok Vediamo un po' Le statistiche Ecco qua Allora 42 di attacco 38 di difesa 29 di attacco speciale 25 difesa speciale Velocità 36 Mo vediamo tutti ma Attacco 32 Difesa 19 Attacco speciale 27 Difesa speciale 20 Velocità 37 Attacco 41 Difesa 27 Attacco speciale 38 Difesa speciale 31 Velocità 35 Vabbè di lui Mi passa per la minchia Sinceramente Ragazzi Questo video si può Concludere qui Dopo l'evoluzione Di tranquil Si può Concludere qua Abbiamo soltanto Bisogno di un blitzel In seb Stryka Nel prossimo video Ragazzi Allenerò i pokemon Cioè Fuori video Allenerò i pokemon Ve li farò trovare Al 25 Tutti e tre Tranne panseer Che ovviamente Non lo alleno tanto Grazie per la visione Ragazzi Ciao a tutti